buongiorno sono eugenio saltarelli del sito www investimenti vincenti.it il sito che parla di opzioni analisi statistica analisi ciclica analisi intermarket e proprio di analisi inter market vorrei trattare oggi e vorrei fare una analisi di relazione tra tre tre principali mercati al mondo quelli che muovono enormi masse di liquidità ossia la s&p 500 il crb index delle materie prime e il cambio dollaro euro non euro dollaro euro euro perché s&p 500 e commodities sono trattati in dollari quindi il dollaro euro mi da una specie una specie di dollar index cioè la forza del dollaro media rispetto alle altre monete e qui vediamo i dati giornalieri in rosso abbiamo le s&p 500 in grigio scuro il crb index su scala logaritmica a partire dal inizio dell 85 quindi sono circa 24 anni di dati quasi 25 e quindi è un buono studio vorrei farvi vedere come abbiamo delle alternanze di fasi una fase scusate questo in basso è il l'indice di correlazione che indica se è più vicino lo zero o comunque sotto questo asse scusate se più verso il negativo cioè sotto questo asse indicano una correlazione inversa ossia se uno cresce l'altro decresce viceversa quando è sopra lo zero meglio più vicino all'uno come in questa fase qua hanno tendenze simili e si vede anche dal grafico che sono due crescenti e anche in questo caso qua la cosa che si può notare che abbiamo delle fasi alterne medie questa è la correlazione su 250 dati circa quindi un anno di correlazione come vedete anche la correlazione ha una sua ciclicità non è statica quindi quando io sento parlare di relazioni tra i mercati e si dice che più o meno la relazione quella io sono un po stupito perché so essendo uno studioso di analisi intermarte che le relazioni fra i mercati sono variabili e non sono fisse vedremo addirittura dopo sull'euro dollaro cosa è successo quindi vedete che si alternano fasi mediamente più negative e positive qui più negative con una zona di positivo qui assolutamente più positivo e qui assolutamente incerta come l'attuale però nell'ultima fase quindi a partire a partire grosso modo dal dal ribasso quindi dal dal grotto dalla parte più grossa del ribasso quindi grosso modo dal dal settembre del 2008 la correlazione è tornata a essere positiva la cosa che vorrei anche sottolineare è che la prima parte vedete la prima parte del grande rialzo degli anni 90 che poi è culminato con il rialzo finale fino al massimo del 2000 è stato con una relazione positiva cioè materie prima rialzo e il semplice 500 rialzo come del resto anche buona parte dell'inizio del rialzo a partire dal 2003 quindi sicuramente un rialzo sano deve essere delle borse mondiali quindi degli indici sicuramente deve essere accompagnato anche un rialzo delle materie prime il che è ovvio perché se si rialzano le materie prime vuol dire che le industrie hanno bisogno di materie prime da elaborare e poi ci sono tutti vari consumi anche delle materie prime come quelle come quelle legate ai combustibili che sono comunque anche se legate all'aumento della produzione industriale attualmente quindi la situazione è assolutamente caotica a partire dall'inizio del 2007 quando poi diciamo prima della prima metà del 2007 che c'è stato poi il culmine dell'attuale rialzo culminato proprio alla fine nel 2007 poi con tutto il ribasso successivo quindi sicuramente quando per avere un rialzo sano dovremmo avere come attualmente è però adesso abbiamo una correlazione diretta con la decrescita di tutti e due un rialzo sano sarà quando vedremo materie prime e indice crescere insieme quindi correlazione positiva volevo anche far vedere giusto per sfattare alcuni falsi miti il grafico dell'euro dollaro qui chiaramente si capisce poco perché sempre su base logarittmica per per vedere meglio gli scostamenti sempre a partire dal 85 questo è il dollaro rispetto all'euro quindi il dollarini se vogliamo e qui abbiamo l'esempio 500 vorrei farvi notare come è vero che abbiamo avuto per circa 15 anni cioè dall'87 fino a a circa la metà del 2003 una tendenza mediamente positiva del cambio dollaro euro o dollaro comunque rispetto agli altri questo con tutta la fase crescente forte del durante tutta la fase crescente e anche parzialmente decrescente dell'indice sp500 è ovvio anche questo perché se cresce quell'indice chiaro che il dollaro è forte perché c'è gente che cambierà dollari nel resto del mondo per entrare su quell'indice che è quotato in dollari la cosa strana è il cambio epocale avvenuto in grosso modo la metà del 2003 quando l'ultimo tutta la parte crescente di questo di quelle tutta la parte del rialzo del 2003 fino al 2007 è venuto con un dollaro debole e questa è stata l'anomalia che poi è legata anche alla crisi attuale cioè un rialzo poco sano delle borse mondiali più drogato dalla finanza che da 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 valori strutturali certamente un rialzo più sano del del smp500 dovrà essere accompagnato anche da un rialzo del dollaro altrimenti e c'è sempre sospetto che non sia un rialzo dettato da 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 fattori da fattori reali comunque attualmente persiste la relazione inversa tra dollaro tra dollaro e borsa il dollaro si è leggermente rafforzato con borse in decrescita vedremo in futuro se queste relazioni avvanno dall'evoluzione vi saluto del giugno saltavelli www investimenti vincenti punti